Dopo sul tema di Piazza dei Signori, le proteste sono avvenute da tre persone che abitano davanti a Piazza dei Signori. Allora, nessuno vuole avere il bar sotto casa, nessuno vuole avere il bar aperto fino alle 2. Le contestazioni ovviamente sono da chi vive sopra, attorno all'anello di Piazza dei Signori e non in una casa, ovviamente in un quartiere, in altre zone. Il Sindaco deve cercare di contemperare le esigenze che ci sono della cittadinanza, dei ragazzi giovani con quelle dei cittadini. Io capisco che chi abita in Piazza dei Signori, su appartamenti di lusso, magari può dare fastidio se oltre a una certa ora ci sia della confusione. Però è anche vero che questa è una richiesta che viene dalla città ormai da tanti anni, quella di riportare l'orario alle 2 di notte, pur tenendo conto con la patente a punti che alcune situazioni possono essere gestite, nel senso che taglieremo, ridurremo l'orario quando ci sono le segnalazioni. Allora, la protesta pretestuosa di quelli che vivono, che hanno un interesse diretto perché Piazza dei Signori sia come una piazza di un paesino di campagna, non è così, questa è una grande città, i ragazzi vengono prettamente nelle piazze. La scelta tanto contestata dei navigli o di Decentrale, va bene, invece si rivela una scelta positiva e l'abbiamo valutata molte volte. Perché? Perché almeno i ragazzi vanno anche in altre zone. Se non fosse così, altro che problemi in Piazza dei Signori. Quindi io capisco le persone magari che a una certa ora dicono c'è confusione, c'è rumore e questo, però non capisco neppure la cosa pretestuosa perché se tu abiti proprio in Piazza dei Signori capisci che hai una situazione differente rispetto al resto della città. Perché se no scegli di andare a vivere, mi spiace dirlo, da un'altra parte perché non potrà mai essere tranquillo in centro una città come a Verona, in Piazza Abra, come a Treviso. Chi abita nelle piazze dove ci sono dei bar, ci sarà sempre un po' di confusione. Ho spiegato che abbiamo aumentato la Polizia Municipale, che ci sono i controlli serali, che ci sono i controlli che sono... Dopo se uno dice, no, lei Sindaco deve chiudere i bar così, io non potrò mai farlo questo perché dobbiamo lasciare vivere la città e dire che perché ci sono i bar aperti fino alle 2 e c'è più rumore vuol dire che è aumentato il degrado. Mi sembra un'azione pretestuosa perché io sono abituato, vi dico francamente, andare a vedere chi mi fa questa dichiarazione pretestuosa e quando è chi abita sopra il bar e allora qualche dubbio magari vi viene.